ciao ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video oggi nuovo video recensione dell'ultimo libro letto in vacanza vi voglio lasciare con una bomba ok e sto parlando quindi di il terzo gemello di cam follet questo libro qui allora quando sono andata in libreria ormai un po di tempo fa perché l'ho preso effettivamente qualche mese fa ho trovato sullo scaffale nella sezione thriller alcuni libri di cam follet di cam follet io avevo letto solo the century trilogy ok quindi quella sulle guerre mondiali e mi era piaciuta moltissimo mi era piaciuta davvero moltissimo nella libreria o poi i pilastri della terra e i suoi continui ma non sapevo che cam follet avesse fatto anche libri thriller e quindi ci sono veramente rimasta lì col palmo che è sceso fino a terra soprattutto dopo che ho letto la trama molto particolare e quindi mi sono letta e vabbè che devi fare ovviamente lo prendo e lo leggo me lo sono portata in vacanza e me lo sono divorata in quattro e quattro otto abbiamo qua in questo libro una trama molto molto particolare nel senso che comunque vediamo due gemelli che sono uguali identici ma nati da madri diverse e quindi voi già vi direte ma che cavolo stai dicendo ok abbiamo ovviamente delle figure che non sa chi non si sa chi sono che hanno che stanno facendo degli esperimenti segreti abbiamo ovviamente la figura di una ragazza che vuole scoprire la verità tutti elementi che tu mi schiagiti butti e viene fuori un thriller assolutamente mozzafiato mozzafiato perché io a questo bellissimo libro ho deciso di dare non me lo ricordo sto guardando su instagram 4 stelle su 5 perché perché comunque è un thriller veramente fatto bene è un thriller che come ho già detto per altri libri non ti lascia scampo tu cominci a leggere la prima pagina e si viene immersi totalmente nella storia e quindi da lì appena finisci il primo capitolo dici no devo devo per forza andare avanti e per me è stato così effettivamente infatti le mie letture di del mare non posso assolutamente lamentarmi perché mi accorgo di averne fatte un bel po ma più che altro perché erano letture che mi prendevano e quindi volevo andare avanti a tutti i costi e questo è stato appunto una di queste abbiamo i personaggi caratterizzati lo stile di ken follet è lo stesso quindi con descrizioni accurate e dettagliate anche la parte di biologia all'interno del libro perché ovviamente parlando di gemelli o mozzigoti c'è anche la parte un po più scientifica è fatta benissimo secondo me c'è che volete è un genio e quindi l'ho adorato questo libro la trama ve l'ho già detto è molto particolare quindi anche in questo caso crea una sorta di aspettativa nel lettore che man mano che va avanti il libro si vuole assecondare per vedere come va a finire la storia la storia secondo me è finita bene forse è l'unico punto un po così nel senso che è finita molto bene per il genere che piace a me ci vuole un po più di non di sofferenza ma ci vuole ecco non la la formula della felicità assoluta quindi questo è l'unico punto su cui ho un po da lamentarmi ma ripeto per mio carattere assolutamente cioè non ha niente a che fare con la scrittura del libro colpi di scena non ne non mancano assolutamente ce ne sono parecchi a un certo punto mi ricordo di aver letto una pagina e di essere rimasta con la stessa espressione che ho avuto quando ho scoperto che ken follet aveva fatto thriller quindi ripeto con la mascellona per terra ve lo consiglio è una lettura molto veloce il libro è alto così quindi non è come i soliti mattoni di ken follet a cui siamo abituati non ne rimarrete delusi ne sono convinta al cento per cento ora dopo aver scoperto dopo aver preso questo libro ne ho se non sbaglio altri due nella libreria ma parlandomi con un'amica ho deciso di leggerli tutti quindi pian piano pian piano andrò avanti e vi parlerò di altri libri nel frattempo cominciando con questo direi che siamo partiti col botto parlando di ken follet e thriller ve lo faccio rivedere il terzo gemello di ken follet fatemi sapere come al solito se vi è piaciuto se l'avete letto che cosa ne pensate nel caso l'abbia già letto se il video vi è piaciuto lasciate like come al solito iscrivetevi al canale in modo da restare connessi e vedere ogni volta quando posto nuove recensioni io per il momento vi saluto e vi auguro una buona giornata ciao ragazzi